Notte di fuoco a Palermo, dove sono stati esplosi sei colpi di pistola. Sono circa le tre, quando nei pressi di un noto locale del capoluogo scoppia una maxirissa. Qui non siamo nei quartieri degradati di periferia, ma in pieno centro, tra via Quintinosella e via Esidoro-Lalumia, a pochi passi dal Politeama. Nelle immagini amatoriali girate da un residente si vedono tanti giovani in strada, alcuni si picchiano, poi si sentono gli spari. C'è chi urla, chi scappa, a terra si vede un ragazzo con un giubbotto bianco che viene tirato su da un gruppo di persone. Se lo stanno caricando, si sente nel video. L'autore della sparatoria invece ha ancora la pistola in mano, alza il braccio ed esplode un altro colpo in aria. Poi sarebbe fuggito via, a bordo di una moto. Numerose le segnalazioni arrivate nella notte al 112, seguite dall'intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile, che però a loro arrivo non hanno trovato più nulla, solo i bossoli. I carabinieri avrebbero acquisito diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. L'episodio della notte scorsa si aggiunge alla lunga scia di atti di violenza avvenuti nel capoluogo siciliano. Prendere per il collo la moglie è tentato omicidio, o meglio, femminicidio, anche in assenza di ferite. Lo dice una sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto le argomentazioni della difesa e confermato i dieci anni ad un uomo che aveva preso per il collo la moglie e l'aveva attaccata al muro. Un gesto non più ascrivibile a lesioni o maltrattamenti, ma appunto al tentato femminicidio. Obiettare l'assenza di ferite e la non volontà di uccidere da parte del marito non cambia la sostanza perché, secondo i giudici, contano i potenziali effetti dell'azione. Il tentato femminicidio si era consumato a Brescia con la vittima che aveva chiamato i carabinieri dicendo che il marito aveva tentato di strangolarla spingendola contro il muro e sollevandola da terra, facendola svenire per qualche attimo e offuscandola la vista. Parole confermate anche dal figlio della coppia che era andato in soccorso della madre afferrando il padre sotto le braccia e costringendolo a lasciare la presa. Una sentenza che dà un segnale significativo anche per chi ogni giorno segue e lavora al fianco di donne vittime di violenza. La sentenza della Corte di Cassazione ha cristallizzato, secondo me, un punto importantissimo e cioè il racconto della donna, la credibilità della donna, il fatto che nonostante non ci fossero lesioni evidenti è stato comunque dimostrato che l'ostrangolare una donna è un indicatore di rischio molto alto quindi è presumibile che nell'intenzione appunto del maltrattante ci fosse quella di ucciderla. Per questo è stato riconosciuto appunto il tentato omicidio. Segregata in casa, picchiata, offesa, maltrattata e minacciata per costringerla a restare chiusa nell'abitazione ed occuparsi solo delle faccende domestiche. Per me si è stato il destino di una giovane donna di appena 19 anni di Palma di Montechiaro, grande centro della provincia di Agrigento. La ragazza incinta sarebbe stata vittima del marito che per opprimerla poteva contare sulla complicità delle sorelle che la controllavano. Si accertavano che non uscisse, le impartivano ordini e lezioni accusandola di non essere una brava donna di casa. La novella Cenerentola viveva nella paura. L'uomo, anche quando era lontano da casa, la terrorizzava via WhatsApp minacciandola di toglierla il bambino appena nato se non l'avesse ubbidito. E alla ragazza era anche proibito di raccontare a parenti e conoscenti di essere incinta. Un calvario durato ben sette mesi, da febbraio a settembre del 2021, ma alla fine la giovane ha trovato il coraggio di denunciare. Adesso il marito, appena 25 anni all'epoca dei fatti, è stato condannato dal Tribunale di Agrigento a tre anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti e sequestro di persona. Una turpe storia che denuncia ancora una volta come esistano contesti in cui i retaggi medievali sono duri a morire anche nelle nuove generazioni. Un intervento che si era previsto 12 mesi, ma noi contiamo di finire con qualche mese di anticipo. Niente da fare. I proclami dell'allora assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà si scontrano con la dura realtà. Altro che anticipo i lavori di recupero e adeguamento dell'Anfiteatro Romano in piazza Sesicoro ad oggi sono in ritardo di ben 13 mesi rispetto alla data di consegna, ovvero novembre 2022, una mazzata per una città che vive di turismo e che per il ponte dell'Immacolata sta facendo registrare numeri record. Peccato però che uno dei monumenti più importanti che gli storici hanno ribattezzato il Colosseo Nero è visibile solo dall'alto e tra i pannelli che delimitano il perimetro del cantiere. Delusione per chi voleva immergersi nella storia. A Catania abbiamo diversi siti chiusi ed è un vero peccato perché Catania è la città più bella della Sicilia per me. Io lo dico da polacca, però sono un operatore turistico e con il cuore faccio vedere Catania che purtroppo è parzialmente chiusa. Diciamo è un bene della Sicilia e bisogna goderne tutti. Queste transenne effettivamente danno un senso di carcere. Noi siamo gente libera. Da dove vieni? Bucarest. Romene. Abbiamo visto che stavi guardando l'anfiteatro. Peccato. E' chiuso. In questo modo si ammazza il turismo, non le manda a dire il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. Purtroppo anche l'anfiteatro è vittima dei proclami. Ritengo che come operatori per noi sia fondamentale, ma anche per la città, se volesse seriamente investire nel turismo, rendere fruibili e fornire dei servizi concreti anche perché noi siamo in competizione con altri paesi dove si è compreso perfettamente che tutto questo deve essere fatto presto, bene e subito. Una leggenda racconta che da queste parti svanì nel nulla un'intera scolaresca. Ora invece sono scomparsi gli operai dall'anfiteatro romano. La speranza è che nel frattempo non svaniscano anche i turisti. Mettiti a posto, denuncia. Hanno scelto di mutuare il linguaggio dei mafiosi per lanciare la campagna antimafia e soprattutto contro il pizzo. Una campagna che parte proprio sotto Natale, periodo di acquisto per i regali e dunque di affari e confusione, ma anche periodo di riscossione per gli esattori di Cosa Nostra. Più di una indagine infatti ha confermato che il taglieggiamento degli esercizi commerciali da parte della mafia, la cosiddetta messa a posto, avviene con due modalità. La protezione si paga mensilmente oppure in due errate, la principale delle quali proprio subito prima di Natale, in questo periodo, quello delle tredicesime. Così da martedì a domenica i volontari di addio pizzo gireranno per gli esercizi commerciali a portare il messaggio anti-estorsione proprio nello stesso momento in cui girano gli esattori della mafia. E proprio questi sono i giorni più delicati, come conferma Nicola Grassi, presidente dell'ASAEC Associazione Antiracket di Catania. Le festività natalizie rappresentano l'occasione per la criminalità organizzata mafiosa per la riscossione del pizzo, una tassa odiosa. Per uscire dal vortice gli imprenditori non sono soli e questa è una cosa che occorre ribadire con forza. Esistono diversi strumenti legislativi che permettono un ristoro totale dei danni che si sono subiti, sia economici che fisici che materiali e dunque denunciate, non ci sono più scuse. Un appello che torna ad essere centrale proprio nel momento degli affari di Natale che rischia di diventare anche il momento di maggiore debolezza del tessuto economico e commerciale. Continua la battaglia contro la dispersione scolastica. C'è anche la legge del novembre scorso che aumenta le responsabilità della famiglia. I controlli sono costanti e hanno portato ad esempio a Catania la denuncia da parte della polizia di 11 genitori che non mandavano a scuola i propri figli minorenni. La Questura ha trasmesso il provvedimento agli organi competenti per valutare la possibile sospensione o revoca per i genitori di sussidi statali come l'assegno di inclusione o il reddito di cittadinanza. La procura locale per i minorenni è stata informata per valutare ulteriori provvedimenti. Due persone sono state anche segnalate perché il loro figlio minorenne è stato sorpreso da solo in strada a bordo di una bicicletta elettrica. Insomma la storia resta sempre la stessa. Genitori che non vigilano, che sembrano distaccati dalla vita dei loro figli. La legge di conversione del decreto Caivano dello scorso 13 novembre, ricordiamolo ancora una volta, prevede sanzioni severe per il mancato adempimento dell'obbligo di istruzione che possono arrivare fino a due anni di reclusione. L'obiettivo è dare costantemente peso all'articolo 114 del testo unico sulla scuola che prevede l'istruzione obbligatoria al fine del conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria o di una qualifica professionale. In questa missione sono coinvolti anche sindaci e dirigenti scolastici e più di tutti, dovrebbero esserlo, sembra evidente, i genitori. Poteva essere un'occasione d'oro. Il Catania è riuscito a trasformarla in una sconfitta pesante contro un Messina che proprio a discapito dei rossazzurri è riuscito a centrare per la prima volta in stagione nella seconda vittoria consecutiva. Un dato che fa riflettere, così come la poca fluidità di manovra e incisività degli etnei, mali che riemergono e i tanti cambi nella formazione tipo decisi da Lucarelli hanno influito. La sfera di cristallo di riuscire a sapere prima chi giocherà bene e chi giocherà male non ce l'ho e quindi si va sulla base di quello che si vede durante la settimana. Ovviamente mercoledì c'è un'altra partita. Il tecnico dice anche di avere le idee chiare sul futuro, vale a dire sul mercato. Probabili cinque movimenti in entrata se non di più, due in attacco, due a centrocampo e una a sinistra in difesa, il primo partente nelle idee del club. Potrebbe essere Sarao, prima convocato e poi fermato per una trattativa che la società sta conducendo col Trapani. Tornando alla partita le opportunità da rete sono state fondamentalmente tre, due nel primo tempo, la prima con Marsur e la seconda con Deli che ha colpito la traversa. Opportunità che pure estemporanei facevano pensare ad una ripresa diversa, invece nel secondo tempo è emerso il Messina che ha concesso una sola chance agli etnei e approfittando dell'errore di Silvestri ha segnato con Emma Us il gol decisivo. Perché noi non abbiamo proprio giocato, abbiamo fatto il loro gioco e purtroppo poi la perdi. Dalle parole di Deli si deve ripartire per non ricadere nei problemi di recente passato. Mercoledì c'è un'altra opportunità contro il Pescara di Zeman, autore finora di un buon campionato nel girone B e reduce dal 4-0 in fritta all'Orbia nell'ultimo turno. La svolta del Messina nel derby l'ha firmata Giacomo Modica, imprevedibile e mai banale nelle sue scelte. L'allenatore di Mazzara al minuto 16 della ripresa inserisce giovani Zunno e Scafetta per Franco e Plescia. Cambia sorpresa, musi lunghi tra i 7.000 tifosi con 5 under in campo. Accade però che la squadra trova dinamismo, brillantezza e vivacità, ma soprattutto il gol dell'ex Michele Mausso. È un'emozione indescrivibile. Segnare nel derby davanti ai nostri tifosi è veramente una cosa che bisognerà raccontare anche in un futuro, quindi sono veramente felice, ma soprattutto per la squadra, per la società, per la gente che comunque ci segue, abbiamo meritato questa vittoria. Nel derby sono arrivate le conferme attese dopo il successo di Teramo contro il Monterosi. Dal recupero di Firenze alla solidità di Manette e Pacciardi, autore di un doppio salvataggio. E poi il solito Fumagalli insieme alla velocità di Zunno e al cinismo di Emmausso sono stati fattori determinanti. Abbiamo cambiato marcia in queste due partite, abbiamo fatto due vittorie importanti con la di Monterosi e quella di oggi, meritate. Niente, siamo felici, io sono ancora provato, quindi dopo, come dicevo prima, dopo vent'anni vincere un derby è veramente una cosa incredibile. Due turni al giro di Boa. Sabato trasferta a Potenza e venerdì 22 il Monopoli al Franco Scoglio. Grazie.